Non solo mimose, cioccolatini, baciamano e bonbon per le celebrazioni dell'8 marzo, pur non demonizzando affatto che in quella giornata rende omaggio con galanteria al gentil sesso, è da più parti quest'anno che giungono gli appelli a puntare l'obiettivo soprattutto sulle iniziative che più di ogni altre mirano a non rendere solo folcloristico il tono di questa giornata ma puntano dritto ad aprire il dibattito concreto su stalking, femminicidio e violenza sulle donne diventati una vera e propria emergenza sociale. Nasce da qui l'iniziativa, alla seconda edizione Le donne colorano il mondo, evento organizzato per la giornata internazionale della donna l'8 marzo le 10, dal liceo artistico Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita, quest'anno in rete con l'IC Mazzarella di Cerreto Sannita e l'IC Kennedy di Cusano Mutri. Gli studenti del liceo artistico allestiranno una mostra tematica e la scenografia che farà da cornici all'evento e distribuiranno i presenti dei braccialetti gadget appositamente ideati, realizzati per l'occasione dai laboratori di ceramica e tessitura della scuola. Interverranno il capitano Vincenzo Campochiaro, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cerreto Sannita, e Carmen Festa, psicologa, psicoterapeuta dell'associazione Iosei. A moderare i lavori sarà il giornalista Pasquale Carlo e introdurrà la dirigente scolastica dell'Istituto Carafa Giustiniani, Bernarda De Girolamo. Infine alle ore 12 in piazza Luigi Sodo vi sarà un flash mob per dire no ad ogni forma di violenza fisica e psicologica contro le donne che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole in rete.